Utili per 4,7 milioni di euro, 466 progetti finanziati a favore dello sviluppo economico del territorio, per complessivi 2,7 milioni, tanti ambiziosi progetti per il 2016. E il bilancio della Fondazione Carispac, illustrata questa mattina dal presidente Marco Fanfani, dal vicepresidente Domenico Taglieri, dal direttore generale Davide Iangemma. Con questi conti economici molto positivi, ha subito sottolineato Fanfani, nonostante la crisi dei mercati finanziari, anche nel 2016 sarà possibile alla Fondazione mettere a disposizione un budget di 2 milioni di euro per progetti territoriali. Tra i progetti coronati da successo che andranno doverosamente replicati, quello delle borse studio lavoro che hanno consentito l'assunzione in pianta stabile di decine di ragazzi prima disoccupati. E tra gli eventi memorabili del 2015, la riapertura della Basilica di San Berardino all'Aquila, dove la Fondazione ha interamente finanziato il restauro del prezioso soffitto ligno. Certo, i conti sono importanti in tanti in quanto ci consentono poi di sostenere le attività. Avere avuto rendimenti per 4 milioni e 6 e quindi un avanzo attivo di 3 milioni ci consente quindi di sostenere su tutta la provincia dell'Aquila numerosissime attività. Noi abbiamo svolto un impegno particolarmente nei confronti appunto dei giovani e quindi delle borse lavoro che abbiamo inaugurato per le aziende, per l'introduzione di giovani in aziende che per 12 mesi percepiscono questa borsa lavoro ed è un modo di immetterli in un processo produttivo. Abbiamo avuto una risposta positiva senza dubbio dal privato, voi pensate che il 65-70% di queste borse lavoro sono state trasformate in rapporti stabilizzati. Finalmente siamo riusciti ad accelerare compatibilmente con quelli che sono i tempi degli uffici l'intervento per quanto riguarda il Palazzo dei Combattenti che speriamo entro la fine di questo mese di febbraio di poter far partire con circa un anno di lavori. Contestualmente abbiamo anche proposto al Comune il nostro intervento sul Parco del Castello, il Parco del Castello è certamente oggi un punto di riferimento per quella porzione di centro storico ed è un punto di incontro e di riferimento visto l'auditorio, visto le attività anche di ristorazione che ci sono dentro, ma comunque la risistemazione del Parco del Castello è importante per la vita della città. Grazie.